Cooking Nutrition Show come mangiare e vivere per essere giovane va in scena Eccomi qua, sono la dottoressa Alina, nutrizionista che porterà in scena l'alimentazione e la cucina racconterò quali alimenti abbinare e la nostra forma di migliorare vi darò dei trucchi su come mangiare e la dieta mediterranea rispettare ma vi farò anche ballare e cantare accompagnati con le notte di Saxe di Elena che mi farà sognare e riuscire sarà un incontro divertente dove aspettiamo tanta gente insieme a me sul palco cucinerete e tutte le delizie assaggerete non mangiate ne bevete così alla fine il nostro cibo saltare vi goderete il piatto completo e colorato sul palco cucinato alla fine con un buon bicchiere di vino sarà accompagnato e anche un pezzo di pane con un super speciale olio extra vergine va assaggiato Per qualsiasi festa e occasione in teatri locali e tendone vi aspettiamo due ore in compagnia per lo spettacolo più innovativo che ci sia contattateci a studiare a studiare a studiare da Grazie a tutti.